Allora dai Franci, dai Franci rispondi che ti porto in un posto bellissimo e ti risponde. Grazie agli amici del gruppo speleologico che dobbiamo andare in missione, no? Certo! Deve dire anche Francesco. Dove andiamo? Andiamo sui Monti Alburni. Sui Monti Alburni, Franci non risponde però. Ma sui Monti Alburni che andiamo a fare sui Monti Alburni? Andiamo a una grotta. E' una grotta, ma è una grotta. C'è un pozzo da 40 però. Pozzo da 40? Franci non risponde. Pozzo da 40? Si c'è anche un traverso da fare nel pozzo da 40. Pozzo da 40. Franci non ti rispondi. Dobbiamo andare? Si. Infatti è una cerca. Dai saluta Franci. Pro bastardo. Dice che doveva venire. Andiamo. Andiamo a fare. Andiamo. Andiamo! Andiamo!